... Solo sei danzatrici, tra cui la stessa gauch, e cinque danzatori per due ore di spettacolo. Sulla scena si celebra più volte il rito della svestizione, anzi lo stato della nudità totale, ma tutto ciò è nascosto dietro un sipario trasparente, sul quale vengono proiettate le immagini di un giardino di ciliegi, della giungla del mare in tempesta. Sulla scena si celebra più volte il rito del mare in tempesta. Sulla scena si celebra più volte il rito del mare in tempesta. Grazie. 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 Grazie.